Musica Benvenuti a Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra Assemblea Legislativa dell'Umbria e Ente Nazionale Sor di Consiglio Regionale dell'Umbria. Nell'ultima seduta dell'Assemblea Legislativa, tenutasi giovedì 26 novembre, la Presidente della Giunta Regionale, Donatella Tesei, ha relazionato, coadiuvata dall'Assessore alla Sanità, Luca Coletto, sulla situazione relativa all'epidemia Covid. All'ordine del giorno dell'Aula anche l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022 e quello dell'Assemblea Legislativa. Parte della seduta è stata dedicata al Question Time, interrogazioni a risposta immediata. La Presidente della Giunta, Donatella Tesei, relazionando sull'emergenza Covid in Umbria, ha evidenziato le cifre aggiornate della fase 2 della pandemia. I positivi sono adesso sotto la soglia dei 10.000, i ricoverati per Covid sono 400, l'indice RT sotto 1, il tasso di letalità all'1,50%, dato quest'ultimo, fisiologico e comunque nella media nazionale. L'Umbria è invece tredicesima per positivi sui casi testati. I tamponi sono in costante crescita. Le misure restrittive della Regione Umbria, ha detto la Presidente, hanno anticipato quelle del Governo nazionale, in seguito le hanno rafforzate e hanno funzionato. Le misure sanitarie predisposte si sono rivelate efficienti nonostante le polemiche, gli attacchi e le notizie false diffuse. La terapia intensiva è passata a 130 posti più di quelli che il Governo aveva richiesto. L'Umbria, ha sottolineato la Presidente, è molto lontana dall'essere la maglia nera fra le regioni italiane, nonostante la tempesta del Covid nella fase 2 sia stata ancora più violenta che nel resto d'Italia. A quello della Presidente ha fatto seguito l'intervento del portavoce delle minoranze, Fabio Paparelli, secondo cui bisogna riconoscere che ci sono ancora criticità da affrontare. Non condividiamo, ha detto, la soluzione di chiudere reparti ospedalieri di eccellenza e mandare i nostri professionisti a operare nelle cliniche private. Ecco perché sosteniamo l'ipotesi di utilizzo dei locali della ex milizia a Terni e di via del giochetto a Perugia. Il tema principale, ha osservato Paparelli, è quello delle assunzioni. C'è bisogno di anestesisti ma anche di infermieri e la medicina del territorio è da ripristinare. Non siamo convinti della scelta sugli ospedali da campo, non siamo d'accordo con l'ipotesi di una struttura Covid a Civitanova Marche per i malati umbri. Nelle residenze sanitarie e nelle residenze protette, ha concluso il portavoce delle minoranze, la situazione dei contagi è ancora molto critica. Su questo argomento si è incentrata la proposta di risoluzione predisposta e firmata da tutti i consiglieri della minoranza e illustrata dal capogruppo del Partito Democratico, Tommaso Bori. Il documento, che si concentra appunto sulla tutela delle categorie più fragili e degli ospiti delle residenze per anziani, è stato rinviato alla terza commissione dell'Assemblea per un ulteriore approfondimento prima del voto. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha poi approvato a maggioranza l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022 e quello dell'Assemblea legislativa, approvazione all'unanimità. Approvati anche il rendiconto 2019 dell'Assemblea legislativa all'unanimità e il rendiconto 2019 della Regione Umbria a maggioranza, voti favorevoli di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Tesei Presidente, Astenuti, Partito Democratico, Patto Civico, Misto, contrario il Movimento 5 Stelle. Il dibattito in Aula si è concentrato sull'assestamento della Regione, che è stato approvato con 13 voti favorevoli della maggioranza e 8 contrari della minoranza. L'assessore Paola Agabiti ha spiegato come, pur in un momento di forte crisi, l'assestamento punta su responsabilità, razionalizzazione, efficienza ed efficacia, ricordando come le riprogrammazioni dei fondi europei siano state determinanti per sostenere il territorio. Inoltre ha sottolineato il problema dello squilibrio strutturale dei trasporti. Su questo atto sono stati approvati emendamenti tecnici presentati dalla Giunta, mentre sono stati respinti due emendamenti proposti dall'opposizione. Uno chiedeva maggiori fondi per le zone della Merino, colpite da eventi calamitosi nel giugno scorso. L'altro auspicava fondi per l'adeguamento dell'ex milizia di Terni e dell'ex ospedale di Monteluce, adeguamento per l'emergenza sanitaria. Parere favorevole per l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza che impegna la Giunta a chiedere al Governo l'inserimento delle parti escluse del cratere nel decreto agosto. Parere negativo per quello presentato dalla minoranza che chiedeva di stanziare i contributi economici per le famiglie e le imprese più duramente colpite dalla crisi. Nel corso dell'Assemblea legislativa sono state discusse otto interrogazioni a risposta immediata. Francesca Peppucci e Daniele Carissimi, Lega, hanno chiesto chiarimenti circa i centri per la revisione delle bombole a metano in fibra di carbonio che non sarebbero presenti sul territorio regionale. L'assessore Melasecchia ha risposto che il problema purtroppo esiste. Chi sceglie in questo carburante non inquinante, invece di essere favorito, deve recarsi in altre regioni. Stiamo interessando il Ministero dei Trasporti e la motorizzazione affinché il problema venga risolto. I consiglieri della Lega Valerio Mancini, Stefano Pastorelli, Paola Fioroni, Daniele Carissimi, Daniele Nicchi e Eugenio Rontini sono intervenuti relativamente al punteggio previsto per i titoli nel regolamento dei concorsi della Giunta regionale relativamente ai concorsi pubblici per la categoria D e per la dirigenza. L'assessore Paola Agabiti ha risposto che la questione sollevata è meritevole di approfondimento nell'ottica di un processo di rivalutazione dell'attuale disciplina che è in corso. I punteggi assegnati dovranno essere adeguati e proporzionati per non sfavorire nessuno, quindi serve una revisione del regolamento. Tommaso Bori, Fabio Papparelli e Michele Bettarelli del Partito Democratico insieme a Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle hanno interrogato la Giunta sulle accuse riportate in un articolo del direttore del quotidiano Corriere dell'Umbria secondo cui i medici umbri avrebbero gonfiato i numeri con l'obiettivo di saturare gli ospedali dove lavorano tramite ricoveri di codici bianchi per mandare in tit le strutture sanitarie. L'assessore Luca Colettio ha risposto chiedendo di evitare speculazioni sulla sanità Umbra. I medici hanno lavorato correttamente e non c'è stato alcun ricovero inappropriato di codici bianchi. Il consigliere Vincenzo Bianconi del Gruppo Misto ha chiesto alla Presidente della Giunta, Donatella Tesei, di prevedere una maggiore e più strutturata partecipazione politica, economica e sociale al fine di raccogliere istanze proposte per la ripresa economica, occupazionale e sociale dell'Umbria. La Presidente Tesei ha replicato spiegando che il confronto e la concertazione con le parti sociali sono un modo di governare forse inusuale ma distintivo della nostra azione. A breve partirà la concertazione sul documento economico 2021-2023 in cui si traccia la visione programmatica in ambito economico. Siamo pronti anche per la programmazione comunitaria 2021-2027, che però non è ancora partita. Possiamo poggiare solo su quello che con le nostre forze siamo riusciti a reperire e a mettere a disposizione della tenuta economica e sociale dell'Umbria. Thomas De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha presentato la propria interrogazione alla Giunta sul tema dell'assistenza delle gravissime disabilità associate a malattia rara e in particolare sull'attuazione di protocolli di emergenza relativamente a casi di contagio da Covid-19 di familiari. L'assessore Luca Coletto ha risposto evidenziando che nello specifico caso relativo a un bambino di Terni, disabile grave, il cui padre è stato ricoverato per Covid-19, l'assistenza è stata potenziata proprio per sostenere la famiglia in un momento di particolare difficoltà. I consiglieri Simona Meloni e Fabio Paparelli del Partito Democratico hanno illustrato l'interrogazione con cui chiedono quali azioni la Regione intende intraprendere in sinergia con il Ministero dello Sviluppo Economico e le istituzioni locali per garantire la continuità produttiva dello stabilimento Treofan di Terni, per tutelare l'occupazione dei lavoratori degli stabilimenti San Gemini e Amerino e di quelli della Trafomec di Tavernelle. L'assessore Michele Fioroni ha risposto che l'Umbria è molto esposta per fattori di debolezza infrastrutturale. Il caso Treofan è un atto di pirateria di un'azienda che ha tenuto un atteggiamento irrispettoso verso lo Stato italiano e la Regione Umbria. La San Gemini è una situazione debitoria drammatica e ha presentato una richiesta di concordato in bianco. Sulla Trafomec la Regione è stata impegnata fin dall'inizio e contiamo sulla nuova società appena costituita. Andrea Fora, consigliere regionale del Patto Civico, ha presentato l'interrogazione alla Giunta per chiedere di attivare urgenti provvedimenti per il ristoro delle aziende la cui attività è danneggiata dalle restrizioni che sono state introdotte a causa dell'emergenza Covid. L'assessore Michele Fioroni ha risposto che le risorse che la Regione mette in campo quali misure di supporto sono di carattere comunitario. Abbiamo creato uno strumento per intervenire sulla liquidità che abbiamo da poco rifinanziato. Stiamo studiando nuove forme di intervento che utilizzano fondi europei. Stiamo valutando il loro utilizzo per andare incontro alle esigenze di categorie fuori da forme di ristoro da parte del Governo. Oggi c'è necessità di favorire il capitale circolante e intervenire sui contributi a fondo perduto. I consiglieri Paola Fioroni e Stefano Pastorelli, gruppo Lega, hanno chiesto alla Giunta quali misure la Regione intende adottare per favorire la ripresa immediata delle attività produttive non appena l'emergenza sanitaria lo consentirà e per supportare l'innovazione e digitalizzazione al fine di accompagnare e guidare le imprese Umbre nella transizione digitale e verso un'economia circolare. L'assessore allo sviluppo economico, Michele Fioroni, ha replicato che oltre a misure di sostegno servono soprattutto misure di supporto per gli investimenti, in modo particolare per quelli rivolti alla modernizzazione del sistema produttivo, di evoluzione, della ricerca e soprattutto per la transizione digitale. Dobbiamo agire anche con altri strumenti di finanza che attiveremo nel 2021. Entro il prossimo mese di febbraio saranno attivi sul versante degli investimenti per il digitale e l'innovazione oltre 13 milioni a cui si aggiungono ulteriori 5 milioni di euro relativamente al versante delle competenze digitali. Ed è tutto per questa edizione di Telecrew LIS, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra Assemblea Legislativa dell'Umbria e Ente Nazionale Sordi Consiglio Regionale dell'Umbria. Assemblea Legislativa dell'Umbria